Fresco di nomina da senatore, ma non per questo più lontano dalla Lazio, il presidente Lotito non ha dubbi e lo mette subito in chiaro con un editoriale per il magazine ufficiale della società Bianco Celeste, anticipato in parte dal Corriere dello Sport. La stagione è iniziata in modo decisamente positivo, dice il patron, che vede una squadra coraggiosa e vogliosa di fare la partita, poi ribadisce la volontà di affidare a Sarri un progetto a lungo termine, idea dimostrata, secondo Lotito, anche dall'aver trattenuto i big, dall'aver rinforzato la rosa in estate. Quindi il plauso ai tifosi, sono soddisfatto dell'importante riscontro in termini di presenza allo stadio e anche dal bellissimo supporto che viene dato in trasferta, dice il patron, che poi conclude ribadendo la promessa di non farsi distrarre dal suo nuovo impegno. In casa, quando possibile in trasferta, come anche a Formello, non mancherà la mia presenza a fianco della squadra per il successo di questa grande famiglia.